In croce interessante quello tra Taranto e Sorrento, il Sorrento che arriva allo Iacovone con 11 punti nelle prime 6 giornate di campionato Una gran partenza per la squadra di Barilari che punta anche al primo posto che non è molto distante, solamente due punti di svantaggio sulla prima posizione Dall'altra parte c'è un Taranto ultimo in classifica che ha bisogno necessariamente di punti Il primo a fondo della squadra rosso-blu è quello decisivo, Mastro Monaco dentro per Zigoni Che segna il gol dell'1-0 al quinto minuto, è già avanti il Taranto con il colpo di testa del numero 11 che sale a quota 2 in campionato Premiato con la titolarità E lui segna il gol dell'1-0 Nel finale di primo tempo la riprende il Sorrento con Musso che da due passi non può sbagliare il tap-in del 1-1 Per lui è il terzo gol in questo campionato di Serie C Torna in parità Il match dello Iacovone con il gol di Musso Il secondo tempo si apre con un bellissimo Sorrento, un bellissimo gol di Don Bolsius La semplicità nel gesto del numero 10 quasi disarmante per il gol del 2-1 del Sorrento Che la ribalta con Don Bolsius, super gol Il Taranto non ci sta e prova ad insistere con Fabbro dalla destra Appoggia il pallone all'indietro, altro cross di Mastro Monaco Sempre per Zigoni Che incorna il pallone sotto la traversa E segna il gol del 2-2 Lui che l'aveva aperta pareggia la partita al 56esimo minuto Colpo di testa perfetto Poi il Taranto diventa ancora pericoloso E reclama un calcio di rigore per questo tocco Con il braccio da parte di Cangianiello Fermato con un fallo Espulso Gautieri, l'allenatore del Taranto La partita finirà in 10 contro 10 Un rosso per parte in questa gara Taranto che vuole vincerla Altro cross dentro per Matera Deviazione salvifica di De Francesco Che salva Sorrento Mette il pallone in calcio d'angolo Prova a farsi rivedere Nelle partite del Favero La squadra in maglia gialla Don Bolsius la mette al centro Per Polidori Che non trova la porta Ecco qui nel finale Il cartellino rosso per Zigoni Sul fallo commesso all'ottantaduesimo Cartellino rosso ed espulsione Taranto che rimane in 10 Poi arriva questo cartellino rosso Dall'altra parte per De Francesco Che lascia in 10 anche il Sorrento Ristabilita la parità anche dal punto di vista degli uomini in campo Il fallo su Fabbro Parità sia nel risultato che negli uomini Finisce così La partita dello Iacovone Con questa azione che sfuma in fallo laterale Un punto per parte Rimane pericolosa la situazione del Taranto In fondo alla classifica del Girone C In fondo alla classifica del Taranto